Tra poco più di 24 ore scatta il no deal per la Gran Bretagna. Capite bene quindi che i 28 leader dell'Unione Europea radunati in questo momento a Bruxelles stanno lavorando con impegno ma anche velocemente per trovare un accordo che possa permettere a Londra di avere più tempo. E per una volta pare che siano tutti d'accordo. Non un rinvio breve come la Premier britannica Theresa May si augurerebbe, unica voce fuori dal coro che permetterebbe al Regno Unito di evitare di partecipare alle elezioni europee di fine maggio, ma un rinvio bello lungo allo scadere dell'anno in modo da permettere ai britannici di prendersi tutto il tempo per riflettere e trovare finalmente una soluzione. Il nostro Premier Giuseppe Conte arrivato a Bruxelles nel primo pomeriggio ne è convintissimo, così come Angela Merkel, Emmanuel Macron e così via. Una questione imbarazzante per i leader politici britannici che dovranno giustificare una campagna elettorale per eleggere rappresentanti in quello stesso europarlamento che in realtà vogliono abbandonare. Servirà tantissimo British Humor a tutti!